Arriveranno quando i miliardi del recovery fund, quale sarà a quel punto il ruolo dell'autorità anticorruzione in Italia? Le dico francamente che l'autorità anticorruzione non è attrezzata e lo ha dimostrato negli ultimi anni per intervenire in questi settori se non bloccando le cose, non ce lo possiamo permettere, non è il problema di autorità anticorruzione, questo è un problema che riguarderà i giudici penali e i giudici penali faranno come sempre accade il loro dovere. L'autorità anticorruzione in questo settore si dovrebbe secondo me limitare a dare delle linee guida, ma non ad intervenire bloccando contratti, perché se questo avviene noi rischiamo di aggravare i fatti pandemici.